Le telecomunicazioni sono il settore che avvicina lo spazio alla terra, che rendono tangibile la percezione delle lontane tecnologie, ci rendono in qualche modo attori non secondari di investimenti enormi e di sviluppo industriale d'eccellenza. Tra i programmi Artes, ovvero Advanced Research in Telecommunication Systems, l'ESA ha creato Artes 20, un filone specifico dedicato alle applicazioni integrate, sulle quali l'ASI investe 5 milioni di euro l'anno per un programma già attivo e che prevede progetti cofinanziati. I programmi Artes sono una serie di programmi dell'Agenzia Spaziale Europea, che svariano in diversi settori e in diversi campi. L'Artes 20, quello di cui parliamo oggi in particolare, è il programma che intende promuovere e sviluppare le applicazioni integrate, ossia l'utilizzo di infrastrutture esistenti, come quelle per l'osservazione della terra, per le comunicazioni o per il posizionamento, integrando i dati forniti da questi importanti investimenti sostenuti dall'Unione Europea, dai singoli paesi negli anni, per dare e realizzare dei servizi sempre più accurati e utili alla vita dei cittadini tutti i giorni, ma anche delle istituzioni, che possono sbagliare in vari campi. Per esempio, vi posso dire, ci sono campi come quello dell'ambiente, l'osservazione delle discariche, l'osservazione e la gestione del movimento dei rifiuti, oppure altre applicazioni su cui stanno montando molto diverse società e sviluppare servizi per la navigazione, ossia la tracciatura delle navi, dei navigli, o anche la realizzazione e l'assuggerimento a chi pilota le navi, le rotte più opportune per diminuire il consumo di carburante o per evitare problemi meteorologici. Le telecomunicazioni sono al centro dello sviluppo delle attività spaziali, come ha testimoniato l'ultima ministeriale ESA di Napoli.